È stato il ragusano Damiano Caruso a conquistare l'edizione 2022 del Giro di Sicilia, manifestazione promossa dalla regione siciliana e da RCS Sport. Caruso ha trionfato nell'ultima tappa sull'Etna ed è diventato il leader della classifica generale. Niente da fare invece per l'altro favorito, il messinese Vincenzo Nibali, giunto quarto, che comunque ha messo minuti nelle gambe in ottica Giro d'Italia. Particolarmente apprezzate le tappe vissute in provincia di Grigento. La carovana, infatti, nel corso della seconda e della terza tappa, ha invaso e colorato i centri di Port Empedocle, Real Monte, Agrigento e Licata, suscitando la curiosità degli appassionati e dei telespettatori con lo sport che, ancora una volta, può diventare veicolo di promozione culturale e turistica. Come è noto, il Giro di Sicilia rappresenta soltanto un antipasto del prossimo Giro d'Italia, che, tra circa un mese, approderà stavolta nel versante orientale dell'isola, con la quarta tappa che muoverà da Avola verso Nicolosi e con la quinta tappa, invece, che condurrà i ciclisti da Catania a Messina. Soltanto per la cronaca, Damiano Caruso ha vinto la manifestazione e ha anche la classifica a punti, maglia giallorossa e maglia ciclavino. Jefferson Cepeda ha vinto la maglia bianca come miglior giovane, mentre Stefano Gandin ha vinto la maglia verde pistacchio del leader dei Gran Premio della Montagna. E passiamo al tennis giovanile, campionato regionale Under-13. La saccense Alice Sclafani del tennis club Sciacca si è arresa soltanto in finale all'altrettanto brava Riberese diletta D'Amico con il punteggio di 6-2, 7-5. Anche D'Amico si allena presso i centri palermitani ed è stata già convocata a Formia per un raduno che riunisce le migliori Under-13 italiane. Il torneo si è svolto presso i campi del tennis club di Matchball di Siracusa. La brava Alice Sclafani, già da tempo, si allena presso il TC2 di Palermo, affidata alle cure tecniche dei maestri Palpacelli e Cocco, con la supervisione del maestro saccense Domenico Caracappa. Sclafani intanto è già in viaggio verso Napoli, dove parteciperà ad un'altra prova del circuito giovanile.